Benvenuti a Terra Madre, panificio Sparti Mario, riconfermato maestro del gusto, ma loro lo sono da sempre, complimenti. Cosa significa per voi essere maestro del gusto? Allora, per me essere maestro del gusto significa dare una bella vetrina e far sì che i miei clienti siano contenti di quello che faccio e lo possono dimostrare sia con i prodotti e in più con la vetrina che voi mi avete dato. Poi i maestri del gusto cosa danno? Danno un futuro ai giovani anche perché essendo sempre su queste piazze e su queste dimostrazioni che fate dà la possibilità ai noi panificatori di farci conoscere sempre di più perché ormai il pane è una cosa che va tantissimo come una volta però va curato diversamente. Una volta si mangiava per riempirsi la pancia, ora si mangia per il gusto quindi i maestri del gusto è perfetto. Un match perfetto. Senti, mi riassumeresti veramente in tre brevi parole cosa significa oggi fare pane in provincia di Torino? Fare pane significa contentare dei buon palati perché, come ti ho detto prima, per riempirci la pancia basta andare in un grande supermercato, mangi e va bene. Però se vuoi mangiare qualcosa di veramente buono vai dal tuo panettiere, noi dell'associazione, siamo tutti grandi panettieri quindi di conseguenza invito tutti i clienti e tutte le persone che vogliono mangiare qualcosa di buono di andare dal piccolo fornaio perché lui è quello che ti dà le cose migliori. Perfetto, buona terra madre. Grazie.